Grazie per l'invito e l'occasione di parlare di temi così attuali e così importanti. E' sotto gli occhi di tutti, non ha bisogno di commento, la realtà purtroppo. Quindi diciamo che dobbiamo cercare di comprendere bene cosa significhi tutto questo per il nostro Paese e per la nostra economia. Perché la presenza della criminalità organizzata produce dei costi economici e sociali che oggi costituiscono, e questo deve essere percepito chiaramente, un'ulteriore tassa a carico di istituzioni ma anche di imprese e di singoli cittadini. E questo si materializza non solo nel taglieggiamento delle attività commerciali e imprenditoriali, ma soprattutto nell'inquinamento dell'economia legale che poi ricade su tutto quanto il sistema economico, finanziario e quindi su tutti i cittadini. Non solo in questo, ma anche in una forma di deterioramento dei costumi, dei valori etici attraverso il ricorso alla corruzione, all'evasione fiscale, alla fuga dei capitali illeciti, alla fuga delle risorse umane e materiali sane, al di fuori dei territori d'origine o addirittura al di fuori del nostro Paese. Quindi è sempre più di attualità il tema del condizionamento e dei limiti imposti dalla criminalità ai processi di sviluppo del nostro Paese. E quindi purtroppo oggi constatiamo che spesso nell'incultura, non la definisco subcultura ma proprio mancanza assoluta di cultura, di una parte dell'imprenditoria, il pagamento di una tangente, del pizzo, è recepito talvolta come un atto sostanzialmente dovuto e da molte imprese anche una sorta di costo di produzione che tutto sommato è favorevole all'andamento dell'impresa. Le forme in cui si manifestano queste pratiche sostanzialmente estorsive non sono costituite soltanto dal pagamento di somme di denaro, ma si concretizzano spesso in sottrazione di merci dai depositi, compiacenti fatturazioni per operazioni inesistenti, assunzione di mano d'opera in servizi di vigilanza veri o fittizi, le cosiddette famose guardianie che sono soltanto formali, fino alla imposizione della compartecipazione societaria nelle imprese. In quest'ultimo caso le vittime preferite sono costituite da imprese in difficoltà, difficoltà di carattere creditizio, difficoltà di liquidità, cui sopperiscono in un primo momento società finanziarie, sostanzialmente in mano alla mafia, anche se ora hanno questo scudo, questa possibilità di nascondersi dentro questo sistema societario, che offrono certamente tassi inferiori rispetto a quelli bancari. In un secondo tempo viene imposto l'acquisto di quote societarie, in un crescendo che di solito poi conduce al totale controllo dell'impresa da parte della criminalità organizzata, con il mantenimento addirittura della titolarità in capo all'originario proprietà o all'originaria società, cioè senza cambiare nulla dello scudo legale, però utilizzato come prestanome per ulteriori attività di riciclaggio. Vedete che così facendo il potere criminale riduce il mercato, la concorrenza, a un semplice simulacro. alterando i meccanismi di scambio di merci e servizi, togliendo alle imprese legali importanti risorse, che potrebbero essere utilizzate per nuovi investimenti produttivi. Per questa infiltrazione nell'economia legale la mafia utilizza anche proprie imprese, che sviluppando una sorta di economia parallela riescono a creare un sistema produttivo, finanziario illegale, con proprie regole di funzionamento, molto simili a un regime di monopolio o di oligopolio. Naturalmente non tutte le imprese reagiscono in modo uguale alla presenza dell'organizzazione criminale, per fortuna diciamo. Ci sono quelle che resistono ma sono costrette a chiudere. Ci sono quelle che si associano nell'antiracket o in associazioni antimafia, ma c'è un terzo approccio, l'impresa connivente. L'impresa convivente con la mafia si presta al gioco criminale, come luogo di riciclaggio e ripulitura di denaro sporco. In quel caso è l'impresa che offre un servizio all'organizzazione criminale e in cambio riceve un flusso aggiuntivo di finanziamento sotto forma presumibile della percentuale sull'importo riciclato. Un secondo comportamento connivente che viene fuori dalle più recenti indagini consiste nell'accertazione di una sorta di padrinaggio nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione. L'esempio più tipico e pervasivo è nel settore degli appalti pubblici. L'impresa diventa capofila di un sistema che favorisce la giudicazione degli appalti pubblici di volta in volta a taluna imprese rispetto ad altre. Quindi l'impresa connivente riesce a fruire della protezione mafiosa anche sul mercato privato. Per esempio non è infrequente il caso di imprese attive nel settore alberghiero, in quelle della ristorazione, che ricevano oppressioni, intimidazioni, addirittura attentati alle volte, magari non denunciati, per forzare l'approvvigionamento di risorse alimentari presso i loro produttori, presso i loro fornitori, presso intermediari conniventi con l'organizzazione. Pur a condizioni non sempre favorevoli o certamente meno favorevoli rispetto ad altri fornitori, così alterando ancora una volta la legge di mercato. E quindi vi è poi l'impresa che si definisce tucur mafiosa, proprio perché è appartenente a mafiosi o perché usa il metodo intimidatorio nel mercato in maniera assolutamente usuale. Le cosiddette imprese mafiose, naturalmente, sono altre imprese che alterano l'economia, perché godono di vantaggi differenziali rispetto alle imprese legali. E quindi anche queste favoriscono la sostanziale soppressione delle regole del libero mercato e della concorrenza. I vantaggi ormai sono ben noti, sono stati più volte ripetuti. Situazioni di monopolio locale, in particolare nella realizzazione delle opere di Lizzi, nella giudicazione di appalti, nell'esecuzione di contratti di subappalto, di fornitura. Per esempio nel ciclo del cemento, io ancora ricordo un'intercettazione telefonica nel corso di un'indagine in cui un appaltatore, un imprenditore che aveva vinto una grossa gara di appalto in Sicilia, doveva fare la cosiddetta colata di cemento, aveva raggruppato tutti i suoi operai, le aveva fatti venire da tutte le sue imprese. Proprio per questo momento, il giorno prima, la ditta che doveva fornire il calcestruzzo, telefona e dice che si sono guastati gli impianti, non possiamo più fornire il calcestruzzo. Allora prende le pagine gialle, cerca l'impresa più vicina, e telefona per dire che mi potete fornire questa quantità di calcestruzzo per domani. La prima cosa che chiede è dove si trova l'opera pubblica. Saputo dov'era, dice, mi dispiace, lì non possiamo fare forniture. C'è una suddivisione del mercato che imponeva addirittura i luoghi dove poter fare le forniture. Allora, io spero che questa realtà, che è stata rivelata ai tempi in cui ero procuratore a Palermo, cioè tra il 2000 e il 2005, spero che sia cambiata. Spero. Ma se rimane questa regola e se si espande in altre parti d'Italia, beh, certamente è qualcosa di veramente devastante. Poi l'azienda non registra certamente conflittualità sindacale, l'impresa mafiosa, parlo del risorio ritornato all'impresa mafiosa, e utilizza le risorse finanziarie a costo zero, e spesso ottiene degli sconti sotto il profilo del pizzo che deve pagare, comunque, nel caso del territorio sotto controllo, questo soprattutto al sud, e poi la costante violazione delle norme contrattuali, previdenziali, antinfortunistiche, a tutela dei lavoratori. Un altro aspetto criminale abbiamo visto è quello della giudicazione degli appalti pubblici. Le percentuali indicate dai collaboratori di giustizia e riscontrate dalle attività di indagini hanno consentito di accertare tangenti versate per il solo fatto di compiere dei lavori su un determinato territorio, importi variabili tra il 2 e il 10%, in maggioranza il 3%. Quindi capite che tassa del 3% che viene pagata a chi ha il controllo del territorio. Poi ci sono i costi aggiuntivi perché spesso per ottenere l'aggiudicazione ci sono altre entità, talvolta istituzionali, da ungere per poter ottenere quel tipo di appalto. Proprio perché ricordo che una volta, sempre nell'esperienza palermitana di procuratore, nel corso di un incidente stradale, si scoprì una valigetta, il guidatore era finito fuori strada e era deceduto. Dentro il portabagagli c'era una valigetta e avemmo la sorpresa di scoprire dentro quella valigetta il kit del perfetto turbatore d'asta. Nel senso che c'era lacca, bolli di vari comuni, c'era uno spadino che serviva a tagliare le buste, ma non dalla parte in cui si vede, spesso dalla parte di sotto, poi si rincolla e nessuno si accorge che sono state tagliate. Questo me l'ha spiegato poi un collaboratore. Oppure un software che stabiliva qual era l'offerta che bisognava indicare per far sì che una certa ditta si aggiudicasse quell'appalto. Raccoglievano quindi tutte le varie offerte delle ditte e stabilivano preventivamente qual era la ditta che doveva aggiudicarsi l'appalto. Beh, se questo è così, adesso non ci sono leggi che si possono inventare che possano contrastare questi fenomeni se non c'è la collaborazione da parte degli uomini che devono attuare queste leggi. E quindi dell'impronditoria che non deve certamente partecipare a filiere di questo tipo, ma così come delle istituzioni, perché non posso dimenticare una cosa che mi è rimasta impressa indelebilmente, quella di un collaboratore che mi raccontò che una volta c'era una ditta che resisteva a dare la propria busta perché l'organizzazione stabilisse l'offerta da apporre. E quindi non ci stava a perdere la gara di appalto. E allora cosa successe? Che si aprì la gara, si aprì l'asta e la busta di quell'impresa fu tenuta per ultima. Il Presidente e la Commissione aprì tutte le buste, arrivato all'ultima, quel Presidente ebbe un malore, un attacco di cuore di Angina Pectoris che lo fece ricoverare in ospedale. Ottenute le cure, l'indomani si riprese la gara, ma durante la notte qualcuno aveva aperto la busta, aveva fatto l'offerta vincente e così aveva superato, cioè aveva cambiato l'offerta di quella ditta in maniera tale che non figurasse vincente. Allora, di fronte a queste cose, ma quale legge sugli appalti potrà mai risolvere il problema? Non c'è assolutamente. Naturalmente poi quel Presidente ebbe un compenso per quel malore che non esisteva di 200 milioni di vecchie lire di un tempo. Di fronte a queste cose è chiaro che siamo assolutamente incapaci di risolvere i problemi. Quindi il problema è sì delle leggi, il problema è dei controlli, il problema di rendere tutto difficile, ma il problema è anche degli uomini che rappresentano le istituzioni. Beh, io vado rapidamente, perché a furia di raccontare episodi e cose non la finiremmo più e quindi ho qui... Dico, è interessante ascoltare. Beh, sì, la tiranina del tempo. Io cerco di avvirarmi alle conclusioni, nel senso che oggi la corruzione sempre di più ha collegamenti con la criminalità organizzata, soprattutto in territori diversi da quelli di origine tradizionale delle organizzazioni criminali. In contesti dove è difficile, ecco, forse Sciascia, quando parlava di contesto operaio, dove è difficile agire, o di omertà, voleva dire proprio questo, che ci sono dei contesti dove è più difficile far valere la presenza dell'intimidazione cosiddetta ambientale, perché c'è una società che riesce ad opporsi a queste lusinghe, a questa offerta di privilegi, a questa offerta... Ecco, forse è questo. Però oggi, in un mondo in cui il potere del danaro è terribilmente aumentato, ecco che la corruzione trova questo posto e questo collegamento con la criminalità organizzata. Sempre di più troviamo questi aspetti e oggi si è anche mutato il rapporto di corruzione. Mi pare interessante questo perché la corruzione richiede un accordo tra corrotto e corruttore, una sorta di sinallagma, così viene chiamato dai professori di diritto penale. Questo sinallagma però è difficile da scoprire, perché entrambi vengono colpiti con la stessa pena. Allora, se io aumento le pene del reato di corruzione, rafforzo l'accordo e il sinallagma. Se io porto dai 5 a 8 anni, ma io rischio 8 anni se denunzio la corruzione, allora favorisco l'accertamento del reato. Vero è che l'aumento delle pene è perché la prescrizione in questo modo diventa più lunga e favorisce l'accertamento della responsabilità in un processo penale che purtroppo è lentissimo e in cui la tagliola della prescrizione opera sempre di più. Però certamente non ho gli strumenti per rompere questo accordo, tanto più che ormai la corruzione non è più un fatto fra due persone, ma succede sempre di più che il favore o l'atto contrario ai doveri d'ufficio il pubblico ufficiale lo fa un soggetto il quale è inserito in una sorta di circolo o di poligono in cui questo favore poi viene ricambiato nell'ambito delle cosiddette cricchie o comitati d'affari per cui il vantaggio al pubblico ufficiale arriva da un soggetto che non ha ricevuto direttamente il favore e quindi dal punto di vista penale è difficile provare da un lato l'atto contrario che sia connesso con il vantaggio patrimoniale o con l'utilità da parte del pubblico ufficiale tant'è che succede in Italia che uno può ritrovarsi appunto proprietario di un appartamento senza saperlo no è successo quindi detto questo è difficile allora ci vogliono gli strumenti come appunto il traffico di influenza che è stato introdotto dalla nuova legge anticorruzione che tanto per essere chiari è stato un risultato eccezionale riuscire a introdurre questo così come tante altre cose non dobbiamo però dimenticare che il successo di questa di questa legge che è dovuta passare da una quadratura del cerchio perché da un punto di vista tecnico il governo doveva passare dall'approvazione delle forze parlamentari dalla maggioranza parlamentare quindi doveva trovare un testo che riuscisse a equilibrare tutte quante le spinte e le esigenze delle varie forze parlamentari quindi è un grosso successo sotto questo profilo però da un punto di vista dei tecnici e degli operatori del diritto beh ancora ci vogliono tante altre cose non solo nell'ambito della formulazione di certe norme ma soprattutto nel contesto in cui si deve inserire la corruzione abbiamo visto che forse bisognava riattivare un po' il vecchio falso in bilancio perché non ci può essere corruzione non ci può essere evasione fiscale senza commettere un falso in bilancio perché non fare un bel reato grave di false fatturazioni che senza le false fatturazioni non si potrebbe mai portare fare nero per pagare le tangenti o per fare l'evasione e portare i capitali all'estero e perché non integrare la fattispecie del voto di scambio e così via insomma abbiamo bisogno di tanti tanti strumenti per contrastare l'economia criminale che badate è un'economia sommersa che incide attraverso tutta una serie di calcoli per un valore di un terzo del nostro PIL nazionale qualcosa come 500 miliardi di euro tra profitti criminali traffici criminali corruzione evasione e quant'altro tutto questo sfugge all'economia e quindi oggi secondo la nostra visione colpire l'economia criminale significa riportare ad equità cercare di portare ad equità quelle che sono diciamo le divisioni nel nostro paese non più tra nord e sud come Sciascia aveva preconizzato ma forse tra tartassati e furbetti che è giusto come dice il presidente Monti si cammino col loro vero nome cioè corruttori evasori estortori sono quelli che ci danneggiano anche sotto il profilo individuale personale anche se non ce ne rendiamo conto grazie 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 grazie